Non sai quanto sembri stupido mentre lo dici? Stupido come chi ammette di non poter fare quello per cui è ancora in vita! Le tue ultime parole... Come mi chiamo? Che cazzo se ne frega? Wade! Quattro o cinque momenti! Come, scusa? Quattro o cinque momenti bastano! Per fare cosa? Per essere eroe! Tutti pensano che sia un lavoro a tempo pieno! Ti svegli da eroe! Ti lavi i denti da eroe! Vai a lavorare da eroe! Ma non è così! In tutta la vita ci sono solo quattro o cinque momenti che contano davvero! Momenti nei quali hai una scelta! Fare un sacrificio! Correggere un difetto! Salvare un amico! Risparmiare un nemico! In questi momenti tutto il resto non conta! Il modo in cui ci percepisce il mondo! Il modo in cui... Perché? Vomitavi parole! Certo, forse sarò condannato a somigliare a un hamburger bruciato, ma almeno questo cazzone non guarirà più! Se indossare una tutina da eroe vuol dire risparmiare la vita agli psicopatici, allora non fa al caso mio! Non tutti hanno le palle d'acciaio come te! Prometti solo che... Sì, sì, starò più attento con i prossimi quattro momenti da eroe! Porca merda! E ora se vuoi scusarmi, sono solo un ragazzo che sta per incontrare una ragazza, per dirle... Che cosa cazzo le dico? Beh, meglio che ti inventi qualcosa!